L'infermeria campobassana deve registrare il nome di Lanzillotta come nuovo degente uscito nell'intervallo di Campobasso San Nicolò. Il centrocampista ex Nardò salterà molto probabilmente la gara del Recchioni di Fermo per una piccola lesione muscolare. Un'assenza decisamente rilevante per Favo tenuto conto che nel secondo tempo di domenica scorsa l'uscita di Lanzillotta ha fatto perdere ai rosso-blu compattezza e geometrie pur avendo lo stesso Campobasso creato qualche occasione evidente nel finale di gara. Insomma con Gattari e Lanzillotta out si procede verso la riproposizione del Campobasso a 5 under dal primo minuto con la possibilità che in attacco qualcuno che sta tirando la carretta da tempo possa anche tirare il fiato. Lo stesso Alessandro ha accusato un affaticamento muscolare dopo il San Nicolò ma è tornato a lavorare regolarmente in gruppo così come la botta presa da Aquino non dovrebbe destare grosse preoccupazioni. Da stabilire chi sta peggio a metà settimana tra Campobasso e Fermana i canarini devono pure constatare le non perfette condizioni fisiche di uomini chiave come Omiccioli, Cremona ed il bomber Molinari che domenica scorsa è dovuto uscire prima dal campo. Esami strumentali ne accerteranno le condizioni fisiche in questi giorni. Molinari ha segnato 7 golle con la maglia della Fermana dal 20 dicembre fino ad oggi in pratica in 6 settimane. Lo stesso tecnico del Campobasso si ostina a non prendere nella dovuta considerazione i giovani della Juniors Rosso-Blu prima con 40 punti nel campionato di competenza. Stante l'indiscutibile autonomia di Favo nel compiere le scelte che ritiene più opportune diciamo pure che valorizzare il patrimonio di classe 98 di proprietà del Campobasso in prospettiva non è un obiettivo meno importante dell'arrivo nei play-off. Risulta essere abbastanza singolare che la Juniors si comporti brillantemente e che lo staff della prima squadra fallito l'obiettivo iniziale della promozione in Lega Pro ne trascuri quasi completamente le capacità. Da rimarcare pure che alcuni under tra cui Perrella hanno debuttato a dicembre in prima squadra e che altri si veda a progna dopo la banchina di dieci giorni fa a Chieti sono tornati per così dire nell'oblio in occasione della gara contro il San Nicolò. Lo stesso Corbo, titolare inamovibile fino a qualche domenica fa e giovane cresciuto nelle Acli Campobasso è stato completamente messo da parte in favore di Lenoci che comunque bene sta facendo sulla fascia destra. Ad ogni modo di tempo per dare spazio ai rampanti giovanotti della Juniors c'è tutto per cui da questo punto di vista rimaniamo molto fiduciosi nei confronti del tecnico del Campobasso. La settima di ritorno potrà dire tutto quasi per quanto riguarda i discorsi di vetta gli incroci pericolosi sono quelli di sabato tra San Nicolò e Matelica e quelli di domenica tra Fano e San Benedettese. Nel turno successivo la capolista giocherà sul campo del Matelica insomma la promozione della Samb passa per le prossime due settimane il margine di vantaggio dei marchigiani è abbastanza rassicurante sia sulla seconda che sulla terza anche se il patron Fedeli ha chiesto ai suoi di tirare fuori gli attributi dopo il pareggio contro il Monticelli probabilmente un ammonimento da parte della proprietà prima di due settimane a dir poco decisive.